A una molta distanza da qui, sulle coste di Calabria, giorni fa si è verificato un evento tragico che ha, come tutti ben sappiamo, coinvolto la commozione interamente del nostro Paese. I profughi afghani hanno fatto tornare anzitutto in mente quanto quasi due anni fa il nostro Paese ha fatto, nel momento in cui i talebani occupavano Kabul per portare in Italia non soltanto i nostri militari lì in missione, ma per portare in Italia tutti i cittadini afghani che avevano collaborato con la nostra missione. Non abbiamo lasciato nessuno, ne abbiamo tutti accolti qui in Italia. Ecco, questo ci fa tornare alla mente le immagini televisive della grande fola di afghani all'aeroporto di Kabul che imploravano un passaggio in aereo per recarsi altrove. Ci fa quindi comprendere il perché intere famiglie, persone che non vedono futuro cercano di lasciare con sofferenza, come sempre avviene la propria terra, per cercare un avvenire altrove, per avere possibilità di un futuro altrove. Ecco, di fronte quindi all'evento drammatico che si è consumato, ma ancor più a quel che questo raffigura e di condizioni drammatiche in quello come in altri Paesi, il cordoglio questo deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti, dall'Italia, per la sua parte, dell'Unione Europea, di tutti i Paesi che ne fanno parte. Perché questa è la risposta vera da dare a quello che è avvenuto, a queste condizioni che, ripeto, con violazione dei diritti umani e della libertà, colpiscono tutti in qualunque parte del mondo.